La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara, l'orchestra, non si fermiamo mai. La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara, l'orchestra, non si fermiamo mai. La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara, l'orchestra, non si fermiamo mai. La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara, l'orchestra, non si fermiamo mai. La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara. La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara, l'orchestra, non si fermiamo mai. La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara, l'orchestra, non si fermiamo mai. La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara. La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara. La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara. La collega Mariana Lantei che sarà qui, stanno con l'ottimo, la voce di Chiara.